È tempo di ciclismo, è il tempo giusto ed era tempo che appassionati e sportivi aspettavano di poter tornare a respirare l'aria delle grandi corse. Un territorio, il Bassanese, che grazie anche all'impegno di Filippo Pozzato si riscopre protagonista e diventa il centro di una serie di eventi con annesse sorprese ancora top secret. Ma quali sono le corse da cerchiare in rosso sul calendario? La prima in ordine di data sarà sicuramente il 12 di ottobre, sarà il Giro del Veneto che abbiamo ripreso in mano l'anno scorso su grande richiesta della regione che ci crede molto in questa corsa storica. L'abbiamo ripresa in mano, abbiamo fatto il solito finale, quello classico con l'arrivo a Padova, quest'anno ci sarà un piccolo cambiamento e sarà molto più coinvolta la provincia di Vicenza. Poi c'è la gravel che l'anno scorso abbiamo fatto per primi, siamo stati primi a fare una corsa per professionisti con le bici gravel, è piaciuta molto e quest'anno sicuramente l'arrivo sarà sempre su Piazzola. E poi la Gran Fondo per tutti gli amatori. Gli appassionati possono partecipare sulle strade che poi affronteranno i corridori il giorno dopo per la Veneto Classic e lì abbiamo un bel progetto per il finale, sempre su Bassano ma con qualcosa di veramente storico e veramente divertente e spettacolare per il pubblico.